Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Ci sono domande in italiano che noi dobbiamo conoscere soprattutto perché dobbiamo essere in grado di rispondere in italiano. Di conseguenza questo video è stato fatto proprio perché abbiamo bisogno di rispondere delle domande in italiano. Come stai? Come stai? Come va? Come va? Tutto a posto? Tutto a posto? Come ti chiami? Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Sei singol? Sei singol? Dove vivi? Dove vivi? Di dove sei? Di dove sei? Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Dove vai? Dove vai? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare? Che cosa ti piace? Che cosa mangi? Che cosa mangi? Che cosa bevi? Che cosa bevi? Che cosa bevi? Che cosa guardi? Che cosa guardi? Quanto costa? Quanto costa? Quanto viene? Quanto viene? Ne vuoi? Ne vuoi? Ne vuoi? Ci vai? Ci vai? Ci vai? Chi sei? Chi sei? Chi parla? Chi parla? Ne sai qualcosa? Ne sai qualcosa? Te ne vai? Ne sei sicuro? Ne sei sicuro? Stai bene? Stai bene? Stai a casa? Stai a casa? Che ore sono? Che ore sono? A che ora apre? A che ora apre? Ti va di andare a ballare? Ti va di andare a ballare? Ti va di andare in discoteca? Ti va di andare in discoteca? Ti va di andare al ristorante? Ti va di andare al ristorante? Ti va di andare in spiaggia? Ti va di andare in spiaggia? Ti va di uscire? Ti va di uscire? Ti va di andare in spiaggia? 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 Cosa mi consigli di fare? Capisci? Capisci ciò che dico? Come posso aiutarti? Come posso aiutarti? Come posso aiutarla? Come posso aiutarla? Dove si trova? Dove si trova? È vicino? È vicino? È lontano? È lontano? Sei in vacanza? Sei in vacanza? Che cosa? Che cosa? Che cosa mi racconti? Che cosa mi racconti? Che cosa fai? Che cosa fai? Ma che fai? Ma che fai? Ma che dici? Che tipo di film vuoi guardare? Che tipo di film guardi? Che tipo di film guardi? Che tipo di film preferisci? Quando? Quando? Quando vieni? Quando vieni? Quando torni dal lavoro? Quando cominci a lavorare? Quando finisci di lavorare? Quando finisci di lavorare? Quanto? Quanto? Quanto devo pagare? Quanto devo pagare? Come? Come ti senti? Come ti senti? Dove? 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 Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Con chi? Con chi vuoi uscire? Con chi ci vai? Con chi ci vai? Con chi ci vai? Con chi ci vai? Con chi vuoi andare al cinema? Con chi esci? Con chi parli? Cos'è? 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 Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Dov'è il mio telefono? Dov'è il mio telefono? Qual'è? Qual'è? Qual'è la tua serie preferita? Qual'è la tua serie preferita? Qual'è la tua attività preferita? Qual'è la tua attività preferita? Qual'è la tua vacanza ideale? Qual'è la tua vacanza ideale? Qual'è il tuo amico? Qual'è la tua amica? Qual'è la tua amica? Chi è il tuo amico? Chi è il tuo amico? Chi è la tua amica? Chi è la tua amica? Perché? Perché? Perché sei felice? Perché sei felice? Perché sei triste? Perché sei triste? Perché sei triste? Ma perché? Ma perché è così? Che ne pensi? Che ne pensi? Che ne vici? Di chi è questo? Di chi è questo? Di chi è questa cosa? Di chi è questa cosa? Queste persone ci sono nella festa? È tutto chiaro? È tutto chiaro? Cioè hai capito? Hai capito? Chi è il tuo cantante preferito? Chi è il tuo cantante preferito? Chi è la tua cantautrice preferita? Chi è la tua cantautrice preferita? Allora, ti è piaciuto questo video? Se ti è piaciuto questo video, puoi lasciare un bel mi piace. Spero sia stato molto utile. Ci sentiamo presto. Grazie. Ciao. 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 Ciao.